Ragazzi e ragazze, buongiorno! Il 21 partirò per il Giappone, ebbene sì, andrò con Veronica, tornerò l'11 del prossimo mese e ultimamente ho chiesto una mano a chi a qualche brand si mi mandava un portatile perché essendo che deve uscire la nuova season di Fortnite il 24 e comunque ci devo lavorare con il PC mi serviva un portatile e pensate un po', MSI me l'ha mandato ma la vera domanda è un PC può reggere Fortnite almeno a 120 fps fissi e stabili? Vi risponderò in questo video Ragazzotti e ragazzotti, il PC portatile è questo qua dell'MSI e se non erro è lo Steel 16 Studio A13V trovate il link qui sotto nella descrizione se lo volete comprare su Amazon installi circa sulle 2002, 2003, 2004, 2005, io vi metto il link di Amazon e raga, di prove ne ho fatte un po' fino a quando io e Veronica abbiamo trovato la perfezione non sto scherzando, in più vi farò vedere un gameplay però attenzione, questo gameplay non mi sono accorto che non stavo registrando l'audio direttamente dal PC ma si sentiva dal microfono perché per l'appunto era veramente un test che poi abbia fatto un devasto, un partita è un altro conto quindi vi lascio al video e poi ne ripariamo e poi vi lascio al video test allora ragazzi come potete vedere adesso in questo momento sto andando qua non so quanto sarà fattibile come vedete ci abbiamo e 60 fps belli dritti 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 ok adesso ho l'audio devo vedere come ci sente fate finta che io faccio così gli fps reggono la qualità grafica è tipo incredibile forse anche troppo questo è un test che sto facendo perché comunque giocandoci dal giappone devo vedere un attimo come viene quindi in realtà mi sono messo il lavalier e sento l'audio direttamente dal gioco ci provo eh esatto il tipo c'ha ok sta 100 fps fissi la grafica è bella madre di dio c'è sto schermo che è una roba ma non è che uno perché sai t'hanno regalato e allora orco due o sto in breve sta giocando sul piccino della o due no no ma è pure troppo ma non hai capito è anche troppo c'è uno qua davanti vediamo come va la grafica c'è come va la sensibilità sta sotto e adesso c'ho più fps quindi automaticamente il gioco risponde meglio no no non sei così forte ah è lui che cagassi schifoso che sta a scappà sarò due ore e mezza poi arrivo io e scappa sto schifoso ancora ma tu stai vedendo questo schifo di potere si amore l'ho tritato è una roba una vergogna cioè la cosa giusta è vergogna infatti ci ho fatto un video e boh poi non è che io non puscio cioè come al solito cioè sto a fare testa ma comunque vado sempre sicuramente mi sento un pochino lento ancora secondo me potrei mettere pure le risoluzioni 2k ma io io no cioè trippol che muoiono aspetta c'è un altro non c'è tanto di passo si si ho visto ti preoccupa bene che miseria non è che è troppo lontano esatto non si vede bene cioè non è che non si vede bene lo schermo è più piccolino lo schermo è un pochino piccolino cioè oddio non è vero che è piccolo è effettivamente il mirino le ali di Icaro ah funzionano così tanto si no ma tu te ne vai proprio con quelle ahah ah 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 minchia che 121 ma guardi che era lontano eh ». perché sta... vedi? Eh no, no, gli arriva la botta di qua, sono qua, 121 Amo, no, porra Amo Che due, porco Bello questo, aspetta, fammi seri Faccio così, ci metto il mirino, ci metto il caricatore e ci metto questo qua Questo qua Ci metto questo E io me ne do andata il prima possibile da qua Io tocco solo la risoluzione dopo Prova a mettere a 2k, figa, se mi regge così 2k implodo proprio Comunque è tutta una questione di impostazioni Sempre, 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 incredibile Mo non so neanche com'è male sta videocamera interna Però qua rischio Eccolo Liscio Liscio Eh già Due lisci È giusto, è giusto, è giusto No, non è vero Però a lui non mi sembra quello di prima Non si muove Eh, 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 eh Ehi, guarda Bot Guarda, ce n'è un altro là da lui, eh Amico, eh, beh, non l'ho attaccato Sì, ma lui mi fa il giro perché mi avevo l'attaccante, crede? Ma che succede? Ah, Zeus Ma che cazzo ne so che gli sta a prendere? Ehi Scusa, ma che ne ha vento? Ehm Ehm Ma che ne so, ma che ne... 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 Non mi aspettavo l'evento di Zeus Infatti ho detto ma mi sta a vibrare Infatti hai visto che ti ho detto no, è buggato Ho detto vabbè, però prima o poi passerà Sì, però il rumore è molto strano Vabbè, ma io... Però... Eh, lo so, io ce provo, ma... Uh, bacchiato Non c'ho neanche tanti colpi, eh Poi, tu lo sai, se io non c'ho l'audio giusto Non gioco bene, quindi sto pure senza cuffie Vabbè, ma raga, ma me potreste pure da un impulso, eh Senza cattiveria ve lo dico Eh, devo fare così il giro e vado sopra Ce l'ho sopra e... Dovrà girare? Siamo quattro Sì, è da lui, ma non troppo Ok Perché vedi, lo stanno pushando, sì Eh, ma tanto guarda, mo' muore uno Che per assurdo me la collo pure, eh Si tiene da sotto? No, non può venire da sotto Lo posso garantire Stanno uno, due e tre Sotto non può venire Cioè, può venire Ma quanto è fattibile? Ancora so quattro, eh Eh, perché se stanno a rispettare, tra virgolette Ok, a uno c'è il bot Sto maiale Non è facile, eh No, no, no Se uno si affaccia da là, mi disintegra Oh, sta da là, sta da là, su, eh Su, su, sta Eccolo Con l'acqua, apri lui Ah Sai che c'è? Che però mi dovrei fare pure un paio di cazzi miei Dico la verità Perché sto sotto E non puoi risalire No, posso, posso Io faccio come mi pare Non hai capito? E allora metti dei vantaggi No Eh, ma no Tutti possono andare là Dai, ti vedi la copiavi, eh Ok Ok Uh, l'acqua Eh, dall'altra parte Proprio l'altra parte Sai che c'è? Io sono fortunato Che c'ho questo Eh, fino a una certa Però No, no Ok Ok, ho salito 121 Ok Palo 121 121 121 121 121 121 121 121 Sì ma Eccolo stava là Stava proprio da dove io E nel cesturo Mamma mia Let's go E però riguarda le botte Ragazzi Incredibile Questo video Vittoria reale nella prima registrazione In cui provo A fare questo video E quindi raga il video l'avete visto 120 fps Fissi E comunque la qualità è davvero Davvero ottima tra l'altro si Ho cambiato il pc l'ho rimesso Nativo a 2k perchè questo pc è 2k Io non entro nei dettagli Ragazzi perchè Non sono la persona giusta per parlarvi Di dettagli tecnici Io sono molto più pratico Col pc mi ci sono trovato bene Sì è la prima volta che io trovo Un pc portatile Che riesce a reggere Fortinet in questa situazione qua Tra l'altro questo pc Verrà dietro con me In Giappone Perchè mi darà una grandissima mano Anche perchè poi dentro Adesso ci devo mettere Sony Vegas Ci devo mettere un po' di robetta E mi aiuterà un botto a lavorare Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel pollice in su Al prossimo appuntamento Ciao ciao